Ciao ragazzi, oggi mi trovo in provincia di Bergamo, sto facendo sistemare il mio camper in questa officina che ritengo molto seria e credo ce ne siano poche. Qui ci troviamo da Centrauto in via Friuli 1-3 a Verdello in provincia di Bergamo e sto facendo sostituire la cinghia perché era stata messa troppo lunga e la cinghia era più lunga, quella che c'era su era più lunga di 12 mm e 12 mm per una cinghia sono un po' tanti. Ho visto la persona, vengo da un ambiente metalmeccanico, ho fatto 20 anni di progettazione e quindi mi è sembrato opportuno sistemarlo perché cominciavo a fischiare. Ma venite con me, dai! Questa è Tilo ragazzi, ciao Tilo dammi pure la mano, non c'è problema è un meccanico che assomiglia più a uno svizzero ragazzi rispetto perché io ho fatto il disegnatore meccanico e l'ho servato un pochino ci ho fatto 4 cianci, adesso mi sta facendo un lavoro al nonno perché la cinghia scivola e non ce n'è. perché è lui il fautore di tutto che mi fa conoscere questa gente per fortuna e adesso questo bel meccanico mi mette a posto il nonno, l'avete già visto? perché ho quella maledetta cinghia che è Ravanò ma io mi fido, mi sposto perché io odiavo quando mi stavano vicino mentre lavoravo. Una convergenza? questo qui è Federico io non parlo ah hai già parlato si 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 io parlo dico quello che mi dici te niente qui stiamo facendo una convergenza abbiamo due banchi revisione, dico bene Federico tre banchi revisione dei ponti questi signori lavorano in modo onesto, veloce e bene infatti hanno fuori la fila ragazzi questo lo riconoscete sempre, è sempre il nonno e me l'hai detto sabato mi hai portato qua ti ricordi che mi hai detto che sei arrivato mattina? ahah chiaro tanto che ci siamo Mimì sono qua eh Mimì la cinghia precedente era più lunga eh cazzo 925 mm la sua è 913 di conseguenza cioè ragazzi io ho iniziato il video 18 minuti e 46 secondi fa ha tirato giù in questo momento il mezzo dal carro ponte questo è lavorare a casa mia grazie a tutti un bacione e se dovete fare una riparazione venite qui a Verdello in via Friuli 1 barra 3 con questo signore qua che adesso non mi caga ciao ciao guardate stivi di là guardate attività di qua pota grazie a tutti grazie a tutti